Sono a riprendere a Francesco Mazzo, disperato dopo il pareggio, dopo che la scomparsa riposita dalla curva, il ratto è scomparso, alcuni dicono che stia facendo la vita, si marcia per capire, si prostituisce, per la cioccolenza e la mentalità. Eccolo la, l'incrucio, lo stava prendendo mentre stava salendo in una macchina, eccolo, eccolo, appena è sceso da un cliente, eccolo qua, si è andato alla vita, si è andato alla vita, guardate l'aria afflitta, cerca di contrattare il prezzo, a freddo, a freddo, a freddo, a freddo, a freddo, a freddo, purtroppo, non so, non so, non so! E' bello, stasera, non so! Povere Francesco non vuole farsi riprendere, è un momento difficile per lui, Brussiello l'ha abbandonata! Mamma, mamma! Che fine! Che fine! bello, vedi. Eh va bene. Quando scordi lo scasca, no? Lo scasca! Come è andata la giornata, non c'è, quante guadagnate? Eh, ho avuto un paio di vinti, ho dato un'indicazione sbagliata. Sbagliata? Eh, in Egitto non le sapeva viva e guadagnata, il gioco aveva i giovani. Alla, alla, alla. Espreme con un don. A raggiunto dove sta ne andando con un don. Dai, va a mangiare il saluto.